La giustizia americana si è detenuta e si accettano la culpabilità di caso di sovorni e corruzione di FIFA. Probabilmente sarà al massimo 20 anni. Il 5 continente di futbol ha chiesto per l'elezione del presidente di FIFA, Giabierna. Il direttore di comunicazione di FIFA, Walter De Gregorio, avvisa che il futuro costa sia normale. Il nostro corso è stato un'estagio per l'elezione del nuovo presidente. Il funeo è attivo e positivo con il funeo di Fonari. Il funeo è iniziale alle 5 e meia. Il idea è un'estagio per l'elezione del IPI che non si può fare in un role still nella prossima regione. Il funeo è un'estagio per l'elezione del funeo di Fonari. Il funeo è iniziale all'estagio per l'elezione del IPI. Il funeo è un'estagio per l'elezione del risultato e salute. Il funeo è un'estagio per l'elezione di un'estagio per l'elezione. Il funeo è un'estagio per l'elezione di un'estagio per l'elezione di un'estagio per l'elezione. Il funeo è un'estagio per l'elezione di un'estagio per l'elezione di un'estagio per l'elezione di un'estagio. Il funzionale è una ricca per mangiare il attore al l'elezione di un'estagio per conseguire saldrarsi. Come un'estagio ho un'estagio per l'elezione di un'estagio? Una professione importante della vita? Quindi, ci si è morto, ci si è morto, e non ci si è morto. Sì, non è proprio per aiutare. Ci sono sempre più. Ma è proprio per aiutare! Quando viene tutti i campi di Besslec, la città è un'esempio, e ci si sta a fare un po' di aiutare, ora facendo il giallo Bessleccio. Nella Trinità di Tobago, c'è una investigazione di Joc Warren, mentre la Fiscalca di Colombia a mandare come investigare la Federazione di Futbol di Colombia per farci tutto il costo che non è corretto. Vedi che era una buona iniziativa della Fiscalia di Colombia, vedi che da parte del mondo non si è avuto con tutta la Federazione di Futbol, ma ora è stato un slam molto duro per FIFI, e se non si è festeggiato, è Maradona. Maradona, bisogna vedere che il mio blato non è in merca, ma se sei, non è tra la pena, non è guardato in merca, non è una questione. Vamo a conto per il caso, e qui non arriva, non è informazione, è una riunione di turco, sta messo un cos.